Il mio nome è Scauri Filippo, sono amministratore delegato di Piemaggio e mi occupo di un po' tutta la parte sia tecnica quindi agronomica ed enologica che è tutto insomma il comparto vendite e la parte noiosa un po' amministrativa. La più grande soddisfazione sicuramente la danno le piante, quindi le viti e la risposta che ai grandi stress climatici che insomma negli ultimi già possiamo dire oltre dieci anni sono sottoposte, stanno dando grandi risposte e grandissime soddisfazioni a noi di natura più tecnica. Piemaggio è un'azienda storica all'interno della denominazione in quanto già nel tardo 500 si ritrovano dei documenti che attestano di una vendita di vino alla vicina Pieve di Sant'Agnese da parte di Piemaggio e in tempi non sospetti nel 1954 abbiamo le prime etichette di vino di Piemaggio quindi insomma ecco una lunga storia. Piemaggio